Passeggio quasi inesistente, molte serrande dei negozi abbassate, l'impatto della chiusura al traffico di Corso Vittorio Emanuele per l'intero weekend non è stato certamente dei più incoraggianti. Questa mattina ha preso il via la trasformazione di parte del corso principale di Barletta in isola pedonale. L'idea ribadita più volte dal sindaco Canninto di farne il salotto buono della città viene però sonoramente bocciata dai commercianti. Guardate il corso, stamattina sono appena le 10, non abbiamo nessuno, le macchine ci portano naturalmente le persone che vengono a fare shopping dalle città limitrofe, quindi come vedete stamane siamo messi così. Abbiamo un addobbo, dato che parliamo di un salotto della città come ha detto il nostro sindaco, assolutamente inesistente. Ma è quello che noi avevamo già segnalato all'amministrazione in quanto fortemente favorevoli ad istituire aree pedonali però che andavano organizzate. Oggi ovviamente ci troviamo di fronte a questa desolazione, questa desertificazione che a mio parere è molto triste. Probabilmente ci sarà un tratto di 300 metri dove ci sarà aria respirabile, può anche darsi, ma probabilmente questa mattina ci saranno attività che non faranno cassetto. E il che è molto preoccupante, già in un momento particolarmente risentito a livello economico e commerciale. Assente la concertazione, sbagliata l'organizzazione. L'isola pedonale doveva essere un punto d'arrivo e non di partenza, dicono i commercianti riuniti nell'associazione Le strade dello shopping. Noi avevamo comunicato all'amministrazione che intanto andava organizzata con una comunicazione fatta prima, preventivamente, creando dei parcheggi che potessero accogliere coloro che sono i nostri consumatori che vengono dalle città limitrofe. C'è stato anche detto che Barletta è percorribile da un punto all'altro in dieci minuti a piedi, probabilmente per i barlettani, ma noi abbiamo molti clienti che vengono dai paesi limitrofi, vanno create delle aree di scambio dove ci sta la possibilità di parcheggiare e chiaramente con dei bus navetta arrivare in centro. E poi, permettetemi di dire, va anche abbellita a livello di decoro. E non mi venga a dire che questo che credo voi stiate riprendendo tramite la tv, diciamo, è un bel decoro da mostrare a coloro i quali dovrebbero essere i fruitori di questa strada. Mi chiedo per quale motivo un utente o un consumatore deve passeggiare su una strada che è appunto destinata ad aria pedonale, ma designata a livello di decoro con delle transenne che è tutto dire.